E alle opposizioni le dimissioni della Guidi non bastano. I 5 Stelle annunciano una mozione di sfiducia nei confronti dell'intero esecutivo. Pronti a votarla ma scriviamola insieme, fa sapere Salvini. Anche Forza Italia intende dare battaglia, mentre il PD replica, la mozione di sfiducia ridicola e inutile, sarà respinta come sempre. Fabrizio Frullani. Tutte le opposizioni vanno all'attacco del governo, il fronte è comune, tutti complici con le mani sporche di petrolio e di denaro. Tuita Beppe Grillo che dice, boom, ora salta davvero tutto, tutti sapevano da anni e poco fa. Di Maio ha annunciato una mozione di sfiducia per tutto l'esecutivo. Questo è un governo che fa gli emendamenti e le leggi per il compagno di un ministro. Gli ele firma il ministro per i rapporti con il Parlamento che si chiama Maria Elena Boschi e abbiamo un presidente del Consiglio che evidentemente, anche se non se ne è accorto e non ci credo, è inadeguato.